ciao a tutti eccoci qua allora shark il primo squalo con jason stanman allora abbiamo un ennesimo film sugli squali però questa volta parliamo di uno squalo un po diverso uno squalo preistorico megalodonte è uno squalo lungo 26 metri che praticamente attacca gli umani e e praticamente jason stanman è questo cacciatore e di squali lui deve andare a salvare questa diciamo questa in questa sommergibile dove praticamente stanno facendo delle scoperte per capire cosa c'è nei fondali marini quindi arriverà jason stanman che dovrà diciamo un po vedersela con questo megalodonte ma quindi non vediamo più jason stanman che fa cazzotti con un tizio oppure il cattivo di turno come in fast and force no no qua proprio con uno squalo lui dovrà affrontare uno squalo bene quindi che cosa dire e il film si apre diciamo con lui che deve perché sono dentro questo sommergibile e questo medibile insieme alla sua squadra di tutti altri possiamo chiamare per le ricercatori cacciatori cacciatori che c'è tra di sua ali che diciamo stavano stanno cercando cosa c'è nei fondali da qui si apre e poi tutto fino lo squalo megalodonte lo vedremo solo per pochi istanti cioè non per pochi istanti ma per varie scene queste scene sanno si possono contare sui punti sui di delle dita e sono scene di 10 20 minuti luna quindi alla fine vedremo lo squalo per mezz'ora scarsa in tutto il film che dura un'ora e 40 non ho ricevuto e fin durano ancora tra 45 e il megalodonte lo vedremo solo per mezz'ora quindi fate un po voi allora quindi che dire a parer mio il film da quello che si è visto nei trailer mi aspettavo molto di più non quello che ho visto adesso dal cinema quindi io considero questo film non brutto ma neanche questo gran che di film quindi se uno non lo dovesse vedere lasci non so preferisca vedere un altro film meglio così perché vabbè che primo è il film più visto dell'estate ci sta perché la curiosità della gente c'è la curiosità c'è in effetti incuriosi va anche a me a vedere questo film quindi sono andato in sala per curiosità per vedere un po com'era in effetti non era il massimo però vabbè hai visto un film dove non ti sei particolarmente divertito ma ti ha fatto passare un'ora e 40 così ecco quindi non è brutto ma non è neanche questo questo capolavoro perché secondo me fin sullo squalo rimane quello di spilberg lo squalo originale ho visto che paragonavano questo film a paradise beach dentro l'incubo film non male che quello mi era piaciuto lo paragonavano piranha piranha è peggio di questo piranha sul trash qua il 3 scema non è non più di tanto non è quel trash stupido è un trash fatto bene ma anche piranha però cade un po sul ridicolo questo meno jason startman è secondo me un po deve cambiare lui perché è sempre l'eroe che va a salvare la fanciulla di turno è sempre il duro che che come lo è uno che sembra che attacchi briga non è che ispiri molta simpatia come può essere non so personaggio tipo me piace molto bruce willis oppure sono personaggi con cui ti affezioni o anche johnson non è male sono personaggi che sono dei duri però sono anche simpatici luigi e sostanzialmente no è antipatico da morire quindi almeno per me è veramente antipatico quindi non saprei come come definirlo su qualche film di azione io posso dire magari mi sono anche divertito con lui però su questo film un po meno un po meno anche su fast and furious che per me fast and furious è un delirio però ecco quindi io spero che non ci sia un secondo film anche se dubito che non ci sia sicuramente ci sarà ma se ci sarà spero che un attimo lo aggiustino aggiustino il il filo perché secondo me va aggiustata qualcosina e il film viene un buon film un buon film cioè perché così siamo sulla via di mezzo non è né brutto e bello ma non è neanche con capo invece se è un buon film andiamo già meglio quindi che dire questo è tutto su shark il primo squalo quindi se volete andare a vederlo andateci per curiosità però ecco non vi aspettate niente non magari qualcuno piace anche per carità gusti sono gusti però io vi dico andate senza aspettarvi nulla perché sennò rimanete delusi un po come ho fatto io quindi mi aspettavo un qualcosina di più però da una parte sono rimasto un pochino deluso questo è tutto noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao c'è